Da domani la Sapienza aprirà le sue porte alle aspiranti matricole per la presentazione delle novità dell'offerta formativa 2024-2025 anticipando il consueto appuntamento dedicato all'orientamento che per le passate 27 edizioni si è tenuto nel mese di luglio. Con porte aperte 2024, Sapienza aderisce anche alla prima giornata nazionale delle università italiane, Università svelate, promossa dalla Crui, programmata per il 20 marzo presso 85 Atenei italiani. Nelle giornate dal 20 al 22 marzo lungo il viale principale della città universitaria saranno allestiti punti informativi dedicati ai corsi di studio offerti dall'Ateneo come pure i servizi alle opportunità di cui gli studenti possono usufruire attività sportive, counseling psicologico, centro antiviolenza, sportello disabili, orchestra e musa e teatro antico alla Sapienza. Presso gli stand docenti, ricercatori e studenti saranno a disposizione per rispondere alle domande e fornire dettagli sui contenuti delle attività e sull'offerta formativa 2024-2025. Parallelamente nell'arco di tre giorni presso l'Aula Magna del Rettorato si svolgeranno 12 conferenze di presentazione dei corsi di studio raggruppati per ambiti disciplinari.